Il Dio Pare si tratti di un minore che ha soppresso un suo coetaneo convinto di uccidere il diavolo Io devo rendermi conto delle due responsabilità Comincio dall'inizio Corpus meum Quindi il fratello non ha nessuna responsabilità della sua morte Non toccare Non so l'idea che lei si sta facendo come sta storia Cosa le chiese la madre con quella telefonata? Non ho ancora intuito Potrebbero essere i canini di un animale Come si concluse poi l'autopsia? Non si concluse Paolino, il segno? Nella cultura contadine è diverso e deforme Viene associato al demonio L'hai ammazzato? Sì, io Ho freddo Coprimi Sto morendo Il dentista era spaventato molto perché sapeva delle tante dicerie Il sacrestano che è la madonna della neve Forse ha paura della signora Guattata Peronino Unitarna Sontorico E' una Strata Modiglia Rest에서는 vu Plai Ha Se a curiosità Excellente La 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 Grazie.